Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo a Piobbico, siamo di fronte al castello dei Brancaleoni per andare alla scoperta degli itinerari della bellezza. Una proposta di Confcommercio Marche Nord che andremo a scoprire con le nostre telecamere. La bellezza che noi rappresentiamo in questa provincia, che ci consente di avere in pochi chilometri spiagge bellissime, il promontorio del San Bartolo, le colline dolci, degradanti verso il mare, le montagne straordinarie del Catria e del Nerone, un ambiente incontaminato, un'enogastronomia di qualità, opere d'arte di valore mondiale, planetario, basta pensare a Urbino, patrimonio dell'umanità. E qui abbiamo alle mie spalle i quadri di Virginio Ridolfi, il pittore dei Calanchi, sono anche i Calanchi, sono un esempio della bellezza del nostro territorio. Ecco, con l'itinerario della bellezza noi questo vogliamo rappresentare, nel mondo del turismo, presentare l'offerta completa di quello che è il nostro territorio, i vari prodotti turistici o i turismi, come si diceva una volta. Ed è quello che il mercato del turismo vuole. Oggi è impensabile presentarsi con un prodotto solo, devi dare al turista e anche agli operatori turistici professionali l'opportunità in una vacanza di vedere tante cose, di immergersi nel territorio, di vivere esperienze, emozioni. L'itinerario della bellezza consente di vivere emozioni e di fare tante esperienze. Siamo qua, nella cornice del Castello Brancaleoni, che per noi è la nostra cartolina da visita, rappresenta il nostro paese. E quindi io, a nome dell'amministrazione, sono molto contento di ospitare questo evento. Devo ringraziare la Confcommercio con il direttore Varotti, che ha creduto in questa location. E ha creduto anche nell'essere molto disponibile, nel fare entrare i piccoli comuni in questo circuito dell'itinerario della bellezza, che oggi andremo a presentare, il 2023, che logicamente i piccoli comuni sono sempre più in difficoltà rispetto, come risorse, rispetto ai comuni più importanti. E devo riconoscere a Confcommercio e al direttore Varotti di essere stato molto, molto sensibile verso le nostre problematiche. Quindi ci ha messo nelle condizioni di poter partecipare appunto a questo itinerario.